A Roma non servono certo le solite chiacchiere da campagna elettorale. A questa città servono poteri speciali come tutte le altre grandi capitali europee. Abbiamo più volte sollecitato il governo in tal senso che però non ha mai risposto. Se davvero vuole il bene di Roma e dei romani, è ancora in tempo.